Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Qualcuno avrà pensato che è mollo? No, non è così ragazzi. Vi conoscete poco se pensate questo. Fare il videomaker è sicuramente una strada lunga e tortuosa. E io questo non lo sapevo proprio, però vado avanti. Il mio amico pugliese qualche video fa mi ha scritto sicuramente stai lavorando qualcosa di grosso. Puoi dire, giuro, la mia vita per me fa cosa di grosso. Quando si lavora per qualcosa di proprio non si risparmiano le energie. Almeno io sono così, penso anche voi, no? Nessuno ha mai detto che questa cosa sia facile. E chi non ha bisogno di risorse al giorno d'oggi? Magari sono un po' megalomane. Io sono fatto così. Posso apparire folla, ma sono fatto così, non ci posso fare niente. Sono sempre stato così. Spero che il video vi sia piaciuto. Non è un addio, è soltanto un'evoluzione. Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata.